vi presentiamo un appartamento in casale nel quartiere di la storta in via cherasco internamente di 60 metri quadri ben distribuiti composti da soggiorno cucina un comodo bagno con doccia senza finestra le rifiniture interne sono di prima scelta troviamo scaffalature e muratura nel soggiorno cotto realizzato a mano perché infissi in alluminio con vetro camera la zona notte è ampia e ben organizzata con cabina armadio area letto e area studio l'appartamento è completamente ammobiliato e gode di un giardinetto privato attrezzato di circa 20 metri quadri per godere appieno del maestoso verde che circonda l'intero casale